L'ingegner Lino Prezioso ha un compito molto importante, quello di effettuare analisi chimiche dell'olio extravergine d'oliva. Che olio abbiamo adesso in giro? Sì, effettivamente quest'anno per le condizioni climatiche, per l'invasione che c'è stata della mosca olearia e anche per una malattia che molte piante di olivo hanno avuto, la tignola dell'olivo, in giro c'è poco olio e la qualità è a volte anche scadente. Non mi è mai capitato di analizzare tanti oli con valori di acidità superiori allo 0,8. Ricordo che 0,8 di acidità è il limite previsto per gli oli extravergini di oliva. Che significa? Significa che ci sono in giro tantissimi oli vergini, ma, e questo è quello che ci preoccupa di più, c'è anche tanto olio lampante e quindi c'erano le famose lampade ad olio e si utilizzava questo tipo di olio perché con valori di acidità superiori a 2, quindi stiamo parlando di oli che devono necessariamente essere inviati ad impianti di raffinezione, quindi trattamento per poi diventare olio di oliva raffinato che si può trovare in commercio. Probabilmente negli ultimi anni, per un'ansia così di prestazioni, abbiamo cancellato dal nostro vocabolario proprio la classificazione vergine che pure ha una sua qualità di riferimento. Assolutamente sì, infatti io credo che quest'anno è l'occasione buona per dare valore anche all'olio vergine di oliva. Allora, il discorso potrebbe essere anche questo. Io mi posso preoccupare dell'aspetto salutistico dell'olio comprando dell'extravergine e lo uso per condimenti a crudo, mentre io posso utilizzare per cucinare anche un onestissimo olio vergine di oliva perché non fa assolutamente male.